Benvenuti in questo nuovo video, oggi purtroppo non sono in compagnia di Pils ma sono in compagnia di Antotota0078 Bella rega E Kingedo02 Bella Oggi vi mostrerò come fare tanti soldi, tanti tanti tanti, veramente tanti soldi su GTA V Per prima cosa uno di voi dovrebbe essere boss, un vostro amico o persino voi, però dovrete avere più di un milione Kingedo mi ha invitato nella sua organizzazione, entriamo Io non posso farla perché devo aspettare altri 10 ore Ecco, siamo entrati nella organizzazione di Kingedo Adesso possiamo andare Per prima cosa il boss dovrebbe avviare Dirigente Cercasi In pratica lui dovrebbe entrare su Boss Secure Serve e fare incarico del boss Io non posso perché sono la sua guardia Una volta che avrà fatto questa cosa lui avvierà, ecco, Dirigente Cercasi Dovremmo andare esattamente qua, dove c'è Dirigente Cercasi Questa attività in pratica consiste nel boss che dovrebbe nascondersi dentro l'aria E mentre noi dovremmo proteggerlo, le sue guardie dovremmo proteggerlo E niente, non devono ucciderlo perché sennò si perderebbe Eccoci ragazzi, siamo entrati dentro la zona Una volta entrati il boss dovrebbe nascondersi dentro qualche posto, in un tetto Vai, sali qua, vai qua, qua dentro Vai, ti trascino io Vai, buttati qua dentro Che cazzo fai tu? Vai, entra, scavalca qua E sì, vai E prendi la scala e poi continua ad andare dritto e sali sul tetto In pratica ragazzi, adesso il boss dovrebbe nascondersi E noi dovremmo distrarle le altre persone Non so, a cercarlo di non farlo uccidere Ok ragazzi E come avete potuto vedere, sono passati otto minuti E per ora non è entrato nessuno nella zona Forse si sta accentrando nella zona Jamal Si entra e dentro la zona Adesso andrà a cercare il boss E noi, come potete vedere, non abbiamo fatto nulla per ora Infatti sono soldi molto facili E è entrato nella zona, niente, sta cercando il boss E noi dovremmo proteggere Tanto per ora lui non sa il boss Basta che il boss si muova Faccio dei passettini Questo con la T20 Cromante Vediamo se vuole fare qualcosa Vuole entrare dentro Dai, basta Ma cosa c'è? Ma c'è nei commenti proietti Questo babbo E niente ragazzi, si sta allontanando E adesso dobbiamo aspettare un minuto e dieci E poi ci prendiamo questi bei 45.000 E passiamo subito dopo all'altra attività Ragazzi, mancano 15 secondi E tra 15 secondi ci prenderemo 45.000 facili Senza aver fatto nulla Niente, girando così e proteggendo il nostro boss Tempo rimasto 4 secondi 3, 2, 1, 0 Ed ecco a noi 45.000 Soldi facili facili da depositare assolutamente in banca Adesso possiamo passare all'altra Alla prossima che ho messo Passiamo subito alla prossima attività In pratica questa attività consiste Ad andare vicino al Monte Ciglia E uccidere quei pisellini là E prendere 33.000 Sempre facili facili In dieci minuti E via Ok ragazzi Eccoci arrivati qua Al campo altruisti Adesso dobbiamo entrare e fare il culo a tutti Una volta entrati Dovremo uccidere tutte le persone E recuperare la valigetta Se riusciamo la recupero Ma che che? C'era uno nudo Uccidiamo direttamente questo Così ci prendiamo la valigetta E ce ne andiamo Ok valigetta presa Ragazzi una volta presa la valigetta Ce ne possiamo pure andare Non ce ne... Basta avere una cara in curuma E si fa tutto In due secondi Oh ancora C'è quello nudo Non ci credo Ma come stanno No vabbè E volete vedere Quanti minuti venite qua Li vedrete tutti di sicuro Ci mancano 500 metri E ci prendiamo questi 33.000 Facili facili Adesso Anche se avrete Anche di meno di tanto Anche se avrete 5 stelle Non vi preoccupate Basta che arrivate a destinazione E prendete questi bei soldini Ok ragazzi Eccoci arrivati E boom 33.000 E niente ragazzi Per questo episodio È tutto Io E Kingedo02 E Antotota0078 Vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video Bella